ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono mazzi e in questo video vi voglio spiegare come condividere i miei video perché visto che qualcuno non ha capito ve lo voglio spiegare e come fare passo passo per condividere i miei video sul vostro canale youtube allora come state vedendo adesso vi faccio vedere diciamo un utente registrato sul mio canale che ha condiviso il mio video e come andrà ad apparire sul tuo canale il mio video ragazzi allora alcuni di voi mi dicono ma io condivido qui condivido lì condivido di qua e su e giù allora io purtroppo se voi condividete su facebook se non siete miei amici non me ne posso rendere conto se invece condividete su youtube youtube automaticamente mi riporterà che voi avete condiviso il video e io avrò una valutazione più concreta riguardo a chi ha condiviso il mio video e quante volte è stato condivido il mio video adesso andiamo per esempio sul canale di default official e andiamo a vedere come state vedendo tra i preferiti insomma tra i video piaciuti di default official c'è il mio video e come si fa a fare questo ragazzi è abbastanza semplice non ci vuole un genio in informatica per fare questo per fare questo basta andare sul vostro canale youtube adesso a me ci mette un pochino l'internet che c'è il pc che va a carbonella più che altro è neanche il pc ma internet alcuni di voi sapranno che posso giocare solo di sera a causa della mia commissione internet sono sotto connessionato insomma ragazzi comunque niente adesso vi andrò a far vedere come allora per prima cosa tornate sul vostro canale andate nelle opzioni il mio canale giustamente poi andate a gestione video ragazzi andate su gestione video una volta che siete in gestione video andate in playlist come vedete a me ci mette mezza vita comunque sia andate in playlist e come state vedendo qui vi farà vedere tutte le vostre playlist se le avete se non le avete insomma è tutto il resto dovete andare nella playlist dei video piaciuti in pratica no perché se mettete mi piace la playlist ce l'avete privata io non riuscirò mai a vedere se voi avete comunque condiviso il vostro video una volta andati nella playlist di video piaciuti andate comunque a modificare le impostazioni della playlist per fare questo come state vedendo entrate in questa diciamo menu e qui potete modificare tutte le impostazioni rendendo pubblica la playlist e farete in modo che io riesca a visualizzare i vostri le vostre condivisioni basta fare questo per partecipare a questa sorta di concorso ragazzi per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video ciao a tutti